Ognuno è un canta storie Tante facce nella memoria Tanto di tutto, tanto di niente Le parole, ah, di tanta gente Tanto buio, tanto colore Tanta noia, tanto amore Il silenzio è un luogo magico Nero come l'estate Io ancora rincorro i fiori E nel frattempo cerco ancora di consumare un pasto Ma la cucina è ormai piena di fiori E tu ti muovi E cammini Dio se ti muovi Tra un sì e un no E la cenere del sigaro caduta nel bicchiere La cena è fredda Il sigaro è sul tavolo Noi due Da un'altra parte Quell'e del sigaroаль Il objetivo di dunque Bello Da un'altra parte E nel frattempo E nel frattempo E nel frattempo E nel frattempo Non è fin da S Blaz Итак Dove Voci mia tua chissà chiamare questo, mia tua chissà la voce che chiamare, ventilato e suonar che ne discorre, in che pensar diciamo e siamo detti, vani smarriti soffi rauchi versi, prescritti da un voler che non si sa, nel sogno che non sai che ti sognare, tutto è passato senza incominciare, me in quest'andare che è stato. Ci sembrava bellissimo organizzare un evento insieme che fosse anche così poliforme, polisegni con la sua dimensione artistica, perché l'arte è sicuramente uno dei linguaggi migliori per esprimere questo senso del viaggio, di ricerca, di rivisitazione, di scoperta, di invenzione che è la caratteristica principale di Suc. Il progetto è cominciato più o meno tre anni fa e la parte bella del progetto arriva adesso perché Suc comincia ad essere aperto alle collaborazioni ormai già da diversi mesi. Questo chiaramente arricchisce la visione. Quello che voglio dire è che noi viaggiamo, viaggiamo in Sicilia, viaggiamo alla Sicilia, e lo facciamo prediligendo la parte di Sicilia che è meno simile a quello che si sa della Sicilia o quantomeno all'immagine che della Sicilia sia dall'interno che dall'esterno. La parte più importante è che noi lo facciamo innanzitutto per noi stessi, quindi è un'esigenza che parte da dentro, perché ci siamo accorti ognuno di noi e poi durante il viaggio che è cominciato tre anni fa, che c'è bisogno di viaggiare, e di scoprire parti di sé che sono subite e che è bene tirare fuori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.